E' stato presentato da Tessan Benedetto, in acqua minerale naturale. Pochi secondi e partiamo. Andremo subito a Lampedusa, dove la situazione continua a peggiorare. Vedremo insieme le posizioni di Francia e Germania. Poi l'intervento del Presidente della Repubblica, Mattarella, all'Assemblea di Confindustria. Tante le avversità, ma dobbiamo avere fiducia nel paese. Ha detto, ascolteremo il suo intervento. E poi il mondo della musica, il luto. Addio a Franco Migliacci, il paroliere dei più grandi successi della nostra canzone. Vi aspetto a tra pochissimo.